Allora ho preso qui al volo Francesco Tadisco per darci due informazioni insomma due importante note sulla novità di quest'oggi che è il Lugo proprio a dimostrazione dell'attenzione che tu soprattutto ma tutta la dirigenza mette sul marketing e sull'immagine sì oggi abbiamo presentato l'abbiamo lì esposto oggi il nuovo marchio il nostro nuovo logo diciamo che ci caratterizza caratterizzerà il nostro finale di stagione più comunque tutto il progetto futuro che si verrà a creare da oggi quindi noi abbiamo voluto marchiare la nostra identità con il nuovo logo che è già pubblicizzato pubblicizzato su tutti i nuovi social quindi sì è un buon lavoro del nostro grafico di del nostro grafico Gabriele che è veramente un ragazzo in gamba diciamo materialmente ma anche simbolicamente sì è praticamente c'è un abbiamo dato abbiamo dato ho voluto dare un simbolo animalesco diciamo il fatto delle tigri che comunque distingue la nostra passione per questo sport e quindi la voglia di metterci tanto carattere anche quello che facciamo e di trasmetterlo alle ragazze e poi ci sono delle iniziali che sono praticamente le iniziali della New Wolleoria vecchio e storico nome di questa società anche se adesso abbiamo voluto donare il nostro nome alla Damiano Spina che è un'azienda locale che ci dà una grossa mano e quindi questo è ok grazie Francesco ti lascio andare visto che già stavi andando ciao ciao